Monica Bellucci Sei nata a Città di Castello, vicino a Berugia, hai 22 anni. Come si esce da Città di Castello e si arriva a diventare a soli 22 anni una ragazza copertina come te? Diciamo che per me l'inizio è stato un po' per puro caso. Infatti ho fatto liceo classico a Città di Castello, poi mi sono iscritta a giurisprudenza all'Università di Perugia, però ho mollato tutto lì. Infatti sono andata a Milano dove sono rimasta 5 mesi e lì ho avuto la mia prima fortuna, infatti ho incontrato il fotografo Claudio Carlos Basso che ho sposato poi. Che previ sposato. Sì, che ho poi sposato e con lui ho cominciato a fare le mie prime copertine. E poi da Milano sono andata a Parigi e lì la fortuna mi ha ancora seguito perché ho cominciato a lavorare tantissimo per la rivista francese Elle e la mia altra fortuna è stata Olivero Toscano. Grazie.